Lì ci sono spostate le giacche e lì sugli sgabelli potete sedervi. Benissimo. Bene, là davanti. Ecco, adesso Teresa vi dà il libretto, ma tanto sono canti, il primo canto lo conoscete già. Ci alziamo in piedi. Tutti avete il fiore, ragazzi? Tu l'hai dimenticato. Chi ha dimenticato ancora il fiore? Facciamo così. Adesso ci verrà annunciato il canto e cantiamo tutti insieme, perché il coro deve sostenere l'Assemblea e non mettersi al posto di. Iniziamo la celebrazione con il canto al numero 106. 106. Camminiamo sulla strada Che è un percorso ai santi tuoi Tutti ci ritroveremo Dove eterno splende il sole E quando incende i santi tuoi La grande schiera arriverà Oh signor come vorrei Che ci fosse un posto per me E quando il sole si spegnerà E quando il sole si spegnerà Oh signor come vorrei Che ci fosse un posto per me E chi dice che la vita Sia tristezza sia dolor Ma io so che viene il giorno In cui tutto cambierà E quando il sole risuonerà A quando il sole risuonerà A nuova vita risorgerà, oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. Camminiamo sulla strada che ha un percorso ai santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sole. E quando il cielo dei santi tuoi la grande schiera arriverà, oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. E quando il sole si spegnerà, oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. E quando è il tuo Spirito? Si trovano insieme per onorare nel nostro caso la Vergine Maria. E un grande grazie a voi genitori che avete accolto il nostro invito di fare in modo che i vostri ragazzi, i nostri ragazzi avessero l'opportunità di portare un fiore alla Vergine Santissima perché lei benedica, voi genitori, le nostre famiglie. E possiamo così sentire l'amore di Dio ed essere presenze per l'amore del prossimo. Grazie di questa vostra sensibilità sono onorato di essere fratello maggiore di questa nostra comunità e godiamo e benediciamo Dio. Mentre verrà cantato il gloria, i nostri ragazzi porteranno il fiore, cioè i vostri sentimenti, le vostre preoccupazioni, le vostre preghiere qui davanti all'altare del Signore. Quando ci sarà il canto del gloria, questa parte qui salirà e mette nel cesto il fiore e poi torna al suo posto. Se non avete posto non preoccupatevi, dopo troviamo il posto per terra. E dopo invece vi dirò e verrà questa parte di qua. Gloria, 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 pace su tutta la terra, gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria, 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 gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo Signore Padre nostro, nel mirabile disegno del Tuo amore, hai voluto che il Tuo figlio nascesse da donna e fosse a lei sottomesso. Donaci una conoscenza viva e penetrante del mistero dell'incarnazione del Verbo, per imitarlo nella sua vita nascosta, fino al giorno in cui, guidato dalla Vergine Maria sotto il titolo di Nostra Signora di Sion, entreremo esultanti nella Tua casa. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo anche per terra. Dal libro del profeta Isaia. Agli ebrei, Isaia annuncia la loro liberazione futura. Cesserà la prigionia e riprenderà la vita. Dio interverrà facendo brillare la luce sul suo popolo. In passato, il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle Genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a Te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché Tu hai spezzato il gioco che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti insieme. Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Insieme. Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. Una cosa ho chiesto al Signore. Questa sola io cerco. Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Insieme. Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Sì forte. Si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Insieme. Venite, applaudiamo al Signore. Alleluia, alleluia. Roccia della nostra salvezza. Amen, alleluia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Di fronte alle divisioni, l'Apostolo Paolo reagisce con vigore, reclamando il ritorno all'autenticità della vocazione cristiana, l'indivisibilità del Cristo, il valore salvifico della croce, il battesimo unica sorgente di vita. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro, Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice «Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo. Alleluia, 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 alleluia. Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà, alleluia, alleluia. Tutti insieme. Alleluia, 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 alleluia. Che il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Matteo. gloria a te, o Signore. Chi è disposto a cambiare mentalità ed è pronto ad accogliere la novità di Dio, riesce ad intravedere l'irruzione del Divino, proprio come un filo di luce che permette di vedere cose che al buio sembravano inesistenti. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si riterò nella regione della Galilea, lasciò il suo villaggio di Nazareth e mise la sua residenza a Cafarnao sulla riva del mare nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, che abbiamo sentito nella prima lettura. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire «Convertitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Parola del Signore. Lode a Te, O Cristo. Alleluia, 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 alleluia. Ci sediamo. Oggi, ragazzi, è la festa della Madonna di Sion. La festa dei ragazzi e delle ragazze di Sion, cioè voi, che volete bene alla vostra famiglia. E per la vostra famiglia siamo qui a chiedere per intercessione della Madonnina di Sion che nella vostra famiglia non manchino mai tre pani. i più grandi sanno quali sono questi tre pani. Leo. Sì? No? Pane? Bravissimo. Primo pane, quale? Non ridere che sei più stupida di lui. chissà di voi? Dell'amore. Secondo? Del lavoro? E il terzo? Bravo del perdono. Bene. Brave ragazze. Bravo anche Leo. Quindi tre pani non devono mancare in casa, vero? Allora, qual è il primo pane? Dell'amore, poi del lavoro e del perdono. Noi siamo qui oggi a chiedere alla Madonnina che custodisca l'amore tra papà e la mamma ma anche tra i genitori e voi e tra voi e i vostri fratelli o sorelle. Vero, Viola? Tuo fratello Diego devi volergli bene. Quindi secondo pane lavoro cosa sarà? e cosa sarebbe se papà e la mamma non vanno a lavorare? Dimmi. No, va bene. Cosa sarebbe? Dimmi. Non avresti il pane. Non avresti i vestiti. Non avresti tutte quelle cose importanti. La scuola, il catechismo, lo sport. Il lavoro è importante per questo ma anche per un'altra cosa. Ragazzi, perché il lavoro mette in circolazione le doti del l'imbianchino del muratore del meccanico dell'idraulico dello scienziato del ricercatore del maestro del professore del vigile urbano di quelli che garantiscono l'ordine di tutti. Pane è questo anche. Quindi nella nostra famiglia non deve mancare il pane e l'altro non deve mancare il perdono. chi non sbaglia mai? Oh, bravi, nessuno sbaglia mai. Tutti sbagliamo. Tutti. Ma tutti possiamo riconoscere di aver e quindi chiedere perdono. La mamma non sbaglia mai, vero? Sbaglia. Ah, sbaglia la mamma. Il papà non sbaglia mai? No, sbaglia. I figli sbagliano? Sì. Ah, e allora vedete tutti sbagliamo. Don Ettore sbaglia. Eh, si capisce. Tutti sbagliamo. Ma tutti possiamo chiedere perdono. Questa è la cosa più importante e se noi sappiamo chiedere perdono papà, la mamma, la mamma, il papà, i genitori, i figli, i figli, i genitori, risplendiamo e il sole. Vi piace il paesaggio con la nebbia come a Londra? No? Bravo. No. Londra è meglio che stia a Londra. Ma ci piace invece il sole di Palermo. Ecco, il sole di Trieste. E allora noi con il perdono che chiediamo al Signore che cosa portiamo? Il sole. Allora siamo qua. a chiedere alla Madonnina vedete la mamma di Gesù ma è anche un grande esempio per noi perché la Madonnina nei Vangeli in un giorno in cui era con Gesù e gli Apostoli in un villaggio che si chiamava Cana che esiste ancora se andate in Gerusalemme a Cana troverete tanta gente che vende il vino perché? Perché Gesù è andato a questo matrimonio e dove anche si è allegri con un bicchiere di vino vero? Non con l'ultimo bicchiere che frega ma un mezzo bicchiere voi no che siete minorenni ebbene a un certo punto è venuto meno il vino e i suonatori non vogliono più suonare la banda suonerà dopo eh e quindi era tutto triste e chi è riuscita a portare la gioia in quella festa? Era stata la Madonna però ha detto alla Madonna una cosa bambini fate quello che lui Gesù vi dirà ecco noi ritroveremo porteremo nel nostro cuore la gioia ragazzi se faremo quello che Gesù ci dirà e cosa Gesù c'è un telefonino no ma e dove troviamo quello che ha detto Gesù nel Vangelo ecco allora se noi impariamo al Catechismo o anche a casa il Vangelo noi sapremo fare quello che ci ha detto Gesù e che porteremo nella nostra casa la gioia e nel nostro cuore la gioia il fiore che voi avete portato oggi è questa preghiera alla Madonnina fa che nella mia casa non manchino mai tre pani quale il pane del l'amore il pane del e il pane del ecco questo vogliamo chiedere per i nostri genitori per la nostra famiglia d'accordo allora in silenzio con le vostre parole un momento chiedete alla Madonna quello che secondo voi è importante per il vostro papà e per la vostra mamma e per la vostra famiglia per i vostri fratelli va bene ecco silenzio grazie tutti insieme ma non è la tua io metto mio signor cammino accanto a te e non ti lascerò ma non è la tua rinnoviamo la nostra fede risponderemo cantando credo credo alleluia credo credo alleluia credete in Dio padre onipotente creatore del cielo e della terra credo credo alleluia credete in Gesù Cristo su unico figlio nostro Signore che nacque da Maria Vergine morì fu sepolto e risuscitato dei morti e siede alla destra del padre credo 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 alleluia credete nello Spirito Santo la Santa Chiesa Cattolica la comunione dei santi la remissione dei peccati la risurrezione della carne e la vita eterna credo credo alleluia alleluia fratelli e sorelle questa è la nostra fede questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore amén noi crediamo in te oh Signor noi crediamo in te oh Signor noi ci ascolti oh Signor tu ci ascolti oh Signor adesso è il momento che voi facciate la preghiera per tutto il mondo per i bambini che hanno bisogno di pace per i bambini per i bambini che vogliono andare in Chiesa e non possono andiamo a pregare per i nonni per i bambini ammalati del burlo per quelli che si preparano ad essere cresimati della nostra comunità o la prima comunione per le donne perché siano rispettate per le nostre famiglie per la nostra bella comunità per Trieste perché a Trieste non manchi lavoro e anche i rapporti belli amichevoli allora dopo ogni invocazione che voi potrete fare vieni vieni Nicolo Angelica brava insieme diremo ascoltaci oh Signore prego perché ci sia sempre pace nel mondo e che ognuno rispetti gli altri anche nei momenti più difficili per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore prego che in tutto il mondo non manchi la salute il cibo e che tutti i nostri familiari siano bene per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore per tutti i bambini che non hanno un rifugio che che ce l'abbiano per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore che i bambini che finisca la guerra in Ucraina e per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore perché in tutto il mondo ci sia la pace e non più la guerra e che la mia famiglia stia bene compresi i miei nonni per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore io prego che le famiglie di tutto il mondo stiano bene in salute e che vivano un buon anno per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore perché tutti stiano bene e che ci sta passere nel mondo e tutti quelli che sono in ospedale si curano per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore per la salute di tutta la mia famiglia e di tutti i miei amici più cari per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore per i posti più freddi che soffrono un po' di freddo e speriamo che possa un po' aumentare la temperatura per questo noi ti preghiamo ascoltaci oh Signore adesso io farò una preghiera anticonformista perché tutti i cannoni invece di sparare emulsioni sparino fiori preghiamo per Cristo nostro Signore ci sediamo e prendiamo il numero che ci verrà indicato canto all'offertorio numero 105 camminerò 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 sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio voglio restare per sempre insieme a te quando ero solo solo e stanco del mondo quando non c'era l'amor l'amore tante persone vidi intorno a me sentivo cantare così tutti insieme camminerò camminerò sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio restare per sempre insieme a te io non capivo ma rimasi a sentire quando anche io vidi il Signor Signore lui mi chiamava chiamava anche me e di ogni così così tutti insieme camminerò camminerò sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio restare per sempre insieme a te o non importa se uno riteni me lui certamente non sa non sa del grande regalo che trovai quel dì che disse al Signore così tutti insieme forte camminerò 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 sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio restare per sempre insieme a te a volte sono triste ma mi guardo intorno scopro il mondo e l'amore l'amore sono questi doni che lui fa a me felice ritorno a cantare insieme forte camminerò camminerò sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio restare per sempre insieme a te ritornello camminerò camminerò sulla tua strada Signore Signore dammi la mano voglio restare per sempre insieme a te pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa ci alziamo adesso abbiamo un impegno un impegno importante state prima di venire attorno all'altare questa mattina ho parlato con una persona sacerdote che assiste il Papa e ho detto della festa della Madonna e il Papa gli ha chiesto di dire a noi che nel momento dell'offertorio lo ricordiamo perché c'è un piccolo peso sul cuore spirituale immagino e vogliamo che la Madonna tolga questo peso dal cuore del nostro Papa può avere anche lui i suoi difetti ma con onestà fa il suo dovere come fanno i nostri genitori e quindi vogliamo che la Madonna gli tolga questo peso venite attorno all'altare bambino con il libretto in mano con calma andiamo intorno all'altare accogli Signore i nostri umili doni per il sacrificio di espiazione e di lode e trasforma anche noi sull'esempio di Maria nostra Signora di Sion in offerta pura a te gradita e lo chiediamo per Cristo nostro Signore il Signore sia con voi in alto i nostri cuori prendiamo grazie al Signore che è nostro Dio è cosa buona e giusta è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie a te Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno in questa solennità della Vergine Maria accogliendo con fede l'annunzio dell'Angelo concepì nel tempo il tuo verbo generato dai secoli eterni e diedi alla luce il nostro fratello e salvatore Cristo Signore in quotidiana famigliarità con il tuo figlio nella casa di Nazareth culla della Chiesa offre a noi un prezioso insegnamento di vita madre discepola del Cristo Signore Maria custodisce e medita nel cuore le primizie del Vangelo e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria santo osana santo santo osana osana e osana e osana al Cristo Signore osana e osana e osana e osana al Cristo Signore Osanna e osanna e osanna a Cristo Signor, benedetto colui che viene nel nome tuo Signor. Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor, osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Osanna e osanna e osanna e osanna a Cristo Signor. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver celato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua benutà. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocato in questa comunità che celebra la festa di Nostra Signora di Sion. «Rendici partecipi, Signore, della benedizione della Vergine Maria. Rendi la Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate, l'intero popolo di Dio. Ricordati del nostro fratello Antonio, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti e ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, che oggi onoriamo con il titolo di Nostra Signora di Sion. San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giusto, Sant'Ambrogio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. ammettili all'unità di Sion. Magnifica il Signor, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 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 alleluia. Adesso facciamo la nostra preghiera e saluta in un nostro pane quotidiano. Riprenditi a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con la Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Il Regno Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, mi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il Tuo Spirito. Il sangue di Cristo, venite in questo calice, siano per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarò salvato. I ragazzi che non fanno la comunione si siedono là dove sono. Canto alla comunione numero 157 Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore Per il sole ed ogni giorno Laudato sì, Signore mio Che riscalda e dona vita Laudato sì, Signore mio Egli illumina il cammino Laudato sì, Signore mio Di ricercate, Signore Laudato sì, Signore Per la luna e per le stelle Laudato sì, Signore mio Io le sento, mie sorelle Laudato sì, Signore mio Le hai firmate sul cielo Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore Per la nostra madre terra Laudato sì, Signore mio Che ci dona fiori ed erba Laudato sì, Signore mio Su di lei noi fatichiamo Laudato sì, Signore mio Per il padre ed ogni giorno Laudato sì, Signore Per chi soffre con coraggio Laudato sì, Signore mio E perdona nel tuo amore Laudato sì, Signore mio Tu gli dai la pace tua Laudato sì, Signore mio Alla sera della vita Laudato sì, Signore Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore mio Laudato sì, Signore Per la morte che è di tutti Laudato sì, Signore mio Io la sento ogni istante Laudato sì, Signore mio Ma se vivo nel tuo amore Laudato sì, Signore mio Dona un senso alla mia vita Laudato sì, Signore Per l'amore che è nel mondo Laudato sì, Signore mio Tra una donna e l'uomo suo Laudato sì, Signore mio Per la vita dei bambini Laudato sì, Signore mio Che in un mondo fanno nuovo Laudato sì, Signore Laudato sì, Signore mio 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 Laudato sì, Signore creazione, ti ringrazia umilmente, perché tu sei il Signore, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio, laudato sì, Signore mio. Continuiamo con il numero 259. La notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si bianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle ribe di ogni cuore, le tue reti getterà. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi, che il cielo è sparso davanti a te, cadesse sulla buona terra, ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Preghiamo. Padre Santo, guarda con bontà questa tua famiglia, che hai nutrito la tua mensa, e facquilo sull'esempio di Maria, che onoriamo come nostra Signora di Sion, lavoriamo all'edificazione del tuo Regno, con il silenzio operoso della Casa di Nazareth, per contemplare in cielo un giorno il volto del tuo Figlio, colui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amén. Un semplice avviso, questa settimana, in occasione del giorno della memoria, avremo giovedì alle ore 18, al Centro Pastorale, la presentazione della figura di Giovanni Palatucci, il questore, che per salvare molti ebrei poi è stato deportato a Dachau. È una figura importante e anche la nostra partecipazione è un segno di sensibilità. Quindi giovedì alle ore 18. Per quanto invece riguarda adesso il termine della celebrazione, Don Ettore toglierà i paramenti, mentre ci sarà il canto finale, e i catechisti raccoglieranno i libretti, quando vi dico io, raccoglieranno i libretti dei canti e poi con calma, sto davanti io, andremo dietro a Don Ettore fino in fondo. Prego, quando Don Ettore scenderà, prego le persone che sono in fondo, dopo, quando scende, di aprire per cortesia le porte. Tutti, poi siamo invitati ad uscire dietro, in processione, ci sarà la banda Refolo che ci aspetta, e lungo le vie densa San Vito e Tigor arriveremo in oratorio. Non in processione, ma in corteo, va bene? Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Amemi. Andatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre, per l'intercessione di Maria, nostra Signora di Sion, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. E a tutti voi che celebrate con fede la festa di Nostra Signora di Sion, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito e la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andiamo in pace. Rendiamo, grazie. I ragazzi si alzano e consegnano ai catechisti più vicini i libretti. E state fermi, poi quando scenderete chi non ha lasciato giù la giacca prenderà la giacca. E intanto ascoltiamo il canto. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo è vicino il regno dei cieli. Guarite i malati, immondate i leprosi, prendete la vita a chi l'ha perduta. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Gli è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia e amore Con voi non prendete né oro né argento, perché chi lavora ha diritto al suo cibo Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa C'è un posto per ciascuno alla mia mensa Entrando in una casa donatele la pace, se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono La pace torna a voi e uscite dalla casa, scuotendo la polvere dai vostri calzari Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa C'è un posto per ciascuno alla mia mensa C'è un posto per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa Grazie!